Filo, parliamo un po' della situazione in classifica. Adesso ha 10 punti in virtù della vittoria a tavolino che avete guadagnato contro il Conversano. Sabato però è un impegno molto difficoltoso quello col Terni in casa. Una partita che bisogna vincere. Si proverà a vincere, ma sappiamo il valore dell'avversario. Sì, sì, è cambiato un po' in classifica, però è quello che diciamo sempre. La squadra non è solo dentro del campo, c'è anche tutte le persone che fanno un lavoro fuori, che è fatto adesso e per noi è andato bene. Abbiamo vinto tre punti fuori, un punto che per noi già abbiamo perso, però è cambiato. E questa partita di sabato penso che può cambiare di più, perché se vinciamo, quello deve fare una sosta anche per loro. E così stiamo a tre punti, se vinciamo stiamo a tre punti di prima classifica. Come state fisicamente? Ci sarà qualche infortunato oppure tutti disponibili? No, no, sono tutti disponibili. C'è qualcuno alto, c'è un po' di dolore, ma non è normale. Ma penso che fino a sabato, penso che domani già sta tutto a posto. Oggi il mister fa un lavoro, penso che sulla partita, così penso che andrà bene. Giulio Calista, parliamo un po' del campionato. Sabato scorso è una bella vittoria a Rimini, nel frattempo adesso siete arrivati a dieci punti con la vittoria a tavolino e sabato che aspetta però l'impegno importante col Terni. Si pensa comunque che una bella svolta di campionato potrebbe essere. Sì, ci stiamo preparando bene per la partita di sabato. Certo, sarà una partita molto difficile, perché Rieti è una squadra molto forte. Abbiamo visto le immagini della cassetta con il mister. Però siamo fiduciosi perché, grazie anche a quei tre punti che ci hanno dato carica, quindi arriviamo a sabato, belli carichi. Finalmente potrete sfruttare poi il fattore casalingo, è importante. Molto importante, non aspettavamo altro, perché pure grazie alla forza speriamo che vengano numerosi a vederci. È la prima partita casalinga per quest'anno, speriamo bene.